Ciao! 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 Facciamo una lezione sui comparativi. Bravo, bravo. E' buono tanto quanto è più buono? E' bravissimo. Allora, prima l'ho comparato tagli e perché è buono. Il comparto è molto facile perché aggiungi solo A all'inizio. Quindi diventa Atiab. 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 Per facilitarti la vita. Atiab. 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 Proviamo a dire la cioccolata è più buona della crema. No, il contrario. La crema è più buona. Vai. La lo sai come si dice? Il. 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 Il crema. Atiab. Il crema. Atiab. Atiab. E ci serve da. Più buona di oda. Si. In armi si dice min. Ok, allora aspetta, aspettate. Min. Aspetta. Aspetta. Ci stanno aiutando. Crema. Al crema. Al crema. Al crema. Atiab. Atiab. Min. De. Mi. Il. Il cioccolata. Il cioccolata. Il cioccolata. Il cioccolata. Invece tipo, la crema è la cosa più buona del mondo? Allora, se noi vogliamo dire il superlativo. Al crema. Al crema. Dobbiamo mettere l'articolo prima. E' la. Da. 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 Mostrificio. Al crema. Al crema. Al crema. Atiab. Bravissimo. Min. No, non c'è comparazione. Del mondo. Allora, fi. Al mondo. Fi. Al alam. All alam. Dell'universo. Come è dell'universo? Fi al caun. Le galassie. I gentili galassie. Fil galaxie. con questo abbiamo imparato tutta la recensione grazie mille grazie a uno